Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnesia Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti verso nord per traffico tra Calenzano e Aglio e arriviamo in Fipili, coda di 1 km per veicolo in fiamme tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno, coda con tendenza all'aumento. Sempre in Fipili per lavori, coda di 1 km verso Firenze tra Empoli e Montelupo e ancora in direzione del capoluogo coda a tratti per traffico tra Lavoria e Ponte d'Aera Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze per la cantieristica domani 20 giugno, via Locatelli dalle 9 alle 19 sarà interrotta tra Piazza Tanucci e via Slataper a causa di un intervento con piattaforma aerea. Era l'ultima notizia, Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30. Grazie a tutti.